Mi ricordo l'escavazione, mi ricordo tutto, l'odore di lignite, la gente che veniva di fuori e ci diceva come fate a abitare qui che c'è un puzzo, non ci si sta. Invece per noi era un'abitudine e era forse una gioia anche sentire l'odore di lignite. La memoria dell'attività mineraria legata al borgo di Castelnuovo dei Sabbioni nel comune di Cavriglia rivive nei racconti degli ex abitanti di questo borgo che adesso con i 20 milioni del PNRR sarà interamente ristrutturato e restituito alla vita sociale. La notizia appunto che questo borgo tornerà a nuova vita, come l'ha accolta? Ma, bene, anzi, benissimo, anzi, ne approfitto per ringraziare l'amministrazione comunale tutti quelli che ci hanno messo l'impegno per ricreare questo borgo, perlomeno rinasce un'anima in questo borgo anche se non ci potranno stare gli abitanti, però ritorna un'anima nel borgo e questo è già tanto. Come tutti i borghi disabitati che sono stati per tanto tempo lasciati soli, visita tante cose, da un museo che c'è già a un altro museo che sta per nascere. C'è stato un eccidio storico il 1944, il 4 luglio, tutte queste persone che sono morte per la patria. Questo, il cuore, che se uno ci mette il cuore viene a trovare anche il borgo di Castelnuovo dei Sabbioni. Emilio, oggi ultraottantenne, all'epoca era un ragazzino, fu la nonna a volerlo portare sul luogo dell'Eccidio dove perse la vita anche il padre. Quando arrivamo all'inizio della discesa, qui non si vede, di là la strada non era questa, in quel silenzio sentire quel rumore dei segolini dei tetti che cadevano, quel puzzo di fumo di bruciato, io dissi, nonna io non voglio vedere più nulla. E lei mi disse, io c'ho sempre il pensato, tu sei il figlio maggiore, tu devi vedere perché tu devi ricordare. Fu un'investitura quella lì, che io non l'ho dimenticata più. Ma allora non la considera, questa frase mi sembrò detta o sì, però sa, lei era una donna decisa, quando diceva una cosa veniva a farla. Ci si fece un raggio e si andò a vedere, però quando si arrivo lì piangeva anche lei, aveva questi mortecatastati, neri, con gli occhi sbarrati, insomma, non erano carbonizzati, erano anneriti più che altro. Mi verrebbe quasi da dire che non abbiamo imparato nulla, che effetto le fa vedere l'Ucraina sotto le bombe? Mi sembra esserci a me, perché noi andavamo a vedere i bombardamenti, vedi la chiesa lì, da parte di dietro, dove l'abside, si guardava la pallata, i calci bombardieri che bombardavano sull'affetto via, un scontro aereo, sì. Sua memoria, che lei ha custodito e tramandato con tanto ardore, è servita anche, perché no, a raggiungere questo risultato? Lo spero, perché io ho perso giorni e notti a cercare le testimonianze, a trovare letteratura sull'argomento, testimonianze scritte, eccetera. Io mi ci sono dedicato, con divertimento anche, perché fra l'altro un lavoro viene bene quando ci si diverte a farlo, e io mi divertivo a fare queste ricerche. Poi se non servono a nessuno, lo so, però sono servito a me per andare avanti. Io abitavo nella parte bassa del paese di Castelnuovo dei Sabbioni. Era un paese di circa 2000 abitanti, compreso casse un pochino sparse negli intorni. E c'era la parte bassa, che chiamiamola, era quella più recente, quella nuova, e la parte alta invece è la parte, il borgo storico, antico. Ci sono delle notizie fin dall'anno 1000, 1100, 1200, ci fu una strage simile a quella e poi c'è stata nel 1944. Soprattutto un ricordo che purtroppo si lega anche, diciamo, con i tempi che stiamo vivendo, perché sentire alla televisione, nei telegiornali, nei servizi, le sirene che invitano la popolazione dell'Ucraina oggi a raggiungere i rifugi antieri, a me fanno venire in mente altre sirene, fortunatamente non così drammatiche, ma che per Castelnuovo e per il territorio scandivano i tempi del lavoro. Sono le sirene che ci ricordavano, segnavano i turni. Mio padre appunto ha lavorato in miniera, quindi c'era la sirena del mezzogiorno, delle 16 e del turno di terza. Tanti dei nostri concittadini nel turno di terza, che era il turno della notte, e questa è storia della miniera, che è storia di Castelnuovo, chiedevano a noi bambini di fare silenzio perché dovevano riposare il giorno e quindi non essere disturbati dai nostri giochi per poter poi affrontare il loro turno di lavoro.